Il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei procuratori Marcello Viola e Francesco Lovoi annullando la nomina di Michele Prestipino Giarritta, quale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. E' stato così respinto il ricorso del procuratore Giuseppe Creazzo. Marcello Viola, originario di Cammarata, con il padrocino degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato innanzi al Tar del Lazio i provvedimenti con i quali era venuta la nomina del procuratore di Roma. Anche il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, assistito dall'avvocato Salvatore Lionti Pensabene, ha presentato il ricorso che è stato accolto. Con il ricorso, gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto come il CSM avesse legittimamente revocato l'originaria proposta di conferimento a Marcello Viola dell'incarico di procuratore di Roma, a seguito di un provvedimento penale della Procura della Repubblica di Perugia relativa alle condotte del magistrato Luca Palamara e di taluni componenti del CSM. Con il ricorso è stato in particolare sostenuto come l'arrevoca della precedente proposta di conferimento dell'incarico fosse stata adottata, pur essendo stato acclarato dallo stesso CSM, il mancato coinvolgimento del dottore Viola rispetto al suddetto procedimento penale. Con il ricorso è stato accesi rilevato come il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del procuratore Prestipino Giarritta fosse viziato sotto svariati profili, avendo tra l'altro il CSM omesso di valutare i numerosi titoli e le importanti esperienze vandate dal procuratore cammaratese Viola e non avendo tenuto conto che Prestipino può vandare solo funzioni semidirettive come procuratore aggiunto presso le procure di Reggio Calabria e di Roma, a fronte delle funzioni direttive svolte invece da Viola, che è stato procuratore della Repubblica Trapani, attualmente procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Prestipino Giarritta, difeso dagli avvocati Massimo Lugiano, Pieri Massimo Chirulli e compatizio Ivo D'Andrea, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tar del Lazio ha rilevato come dalla documentazione relativa all'indagine di Perugia fosse emersa la qualità di parte offesa del dottore Viola rispetto alle macchinazioni o aspirazioni di altri. Il Tar ha tesi rilevato come la decisione del CSM di non confermare la proposta volta al conferimento al dottor Viola dell'incarico di procuratore di Roma, sia quindi immotivata in assenza di elementi oggettivamente riscontrabili a suo carico, quindi per effetto della sentenza del Tar del Lazio il CSM dovrà nuovamente procedere alla nomina del procuratore della Repubblica di Roma confermandosi ai principi del diritto affermati dal giudice amministrativo.